buonasera amici di nova news 24 al grande fratello vip si susseguono colpi di scena luca onessini a un passo dall'addio al grande fratello vip lascerà davvero la casa secondo un'indiscrezione lasciata proprio nelle ultimissime ore il vipone sarebbe pronto a lasciare la casa ecco quali sono i motivi secondo un'indiscrezione lanciata sui social poche ore fa mediovenza ha detto che il vipone potrebbe uscire dal reality l'influencer ha anche parlato del presunto motivo che si celerebbe dietro questa presunta clamorosa novità stando a quanto riportato in una delle sue storie instagram luca onestini sarebbe a rischio uscita e sarebbe stato chiamato in confessionale dove gli sarebbe stata fatta una comunicazione che potrebbe portarlo ad abbandonare il gioco gli avrebbero detto che alcuni suoi valori non sono buoni dopo aver fatto degli esami l'uscita di luca onestini sarebbe veramente uno shock arriverebbe dopo la vicenda di milena miconi che clamorosa dopo aver appreso la notizia della morte del suo manager alessandro locascio sul rientro della vipona stando indiscrezioni rilanciate nelle scorse ore ci sarebbero dei dubbi ma il programma avrebbe assicurato che si tratterà di una parentesi temporanea al momento sull'eventualità di un'uscita di luca non è nulla di certo e nella casa più spiata d'italia arriveranno sicuramente delle conferme questa sera in diretta c'è un pubblico che continua a seguire il percorso ovviamente di luca onestini nel reality ci tiene molto soprattutto il recente confronto con oriana sul loro rapporto di amicizia ha fatto molto molto discutere intanto amici di nova news 24 diteci cosa sta succedendo nella casa e se nelle ultime ore proprio il vipone si stava confrontando con oriana marsoli sul rapporto di amicizia e sulle insinuazioni fastidiosse di alcuni compagni sembrerebbe proprio che onestini sarebbe costretto a lasciare il gioco intanto vedremo cosa succederà se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su nova news 24 amici